Raid in diverse biblioteche di Tokyo, distrutte centinaia di copie del diario di Anna Frank e di altre opere inerenti all'olocausto ebraico. Le pagine vengono strappate o distrutte con un taglierino e adesso questi libri verranno consultati solo sotto sorveglianza. Per reagire, l'ambasciata israeliana ha deciso di donare centinaia di copie che potessero sostituirsi a quelle distrutte, come spiega l'ambasciatore israeliano. C'è stata una reazione di sdegno della società civile ed è un fatto positivo, farà riflettere su come tutto questo sia potuto accadere. Gli episodi però sono in aumento e sono stati segnalati in 38 biblioteche pubbliche sparse in 8 delle 23 municipalità in cui è suddivisa la capitale nipponica. Gli episodi!